Padroni di casa, è la prima delle esibizioni che andremo ad applaudire, sono i Chimpun Kayao di Juan Carlos, Simona, Elena e Marta con En Africa, eccoli qua, Chimpun Kayao. Al cantare e Al cantare e Al cantare e Al cantare Oh, la tumba buona, tumba conguero, tumba conguero Oh, la tumba buona, en la pica, en la pica, se goza si de verdad En la pica, en la pica, la gente se pone a pica Tumba conguero, tumba conguero, oh, ya, 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 la tumba buona Tumba conguero, conguero, tumba conguero, oh, la tumba buona El sonido de la conga significa que para ella El sonido de la conga significa que para ella El sonido de la conga significa que para ella La pica, en la pica, en la pica, la gente se pone a pica Tumba conguero, tumba conguero, tumba conguero Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti. Grazie a tutti.